Numero 9 Barbazza, 10 Vottolotto, 11 Vettrame, a disposizione con numero 12 Sartor, 13 Vigionian, 14 Mattoli, 15 Melini, 16 Piccatton, 16 Lovedo, 18 Dibon, allenatore signor Marco Rosa, per Montreale, 3 pali, 3 numero 1, Fusas, Luca, 2 Bostiani, Federico, 3 Bonesso, Massimo, 4 Magris, Claudio, 5 Rodrigo, 3 Andro, 6 Borghese, Nino, 7 Vidalio e Simone, 8 Vidalio e Salamoni, e io che ne segui a Bali, è ricco. 1 1 2 1 2 2 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.